È un vero e proprio mistero quello legato alle telefonate anonime dal contenuto intimidatorio di cui sono state destinatari e due sorelle di Canicattì nel giro di poche ore. La prima a ricevere le minacce è stata una giovane donna di 28 anni. Quando ha risposto alla chiamata, arrivata senza che fosse apparso il numero dell'apparecchio chiamante visto che è stata usata la funzione di chiamata anonima, ha sentito all'altro capo del filo una voce maschile che le ha rivolto parole inequivocabili, contenenti minacce di morte per lei, il marito e i figli. Esperienza non certo invidiabile che quasi negli stessi istanti ha vissuto anche la sorella, la quale si è sentita a rivolgere una serie di minacce sulla stessa falsariga. Subito sono stati allertati i poliziotti del commissariato di Canicattì, i quali sono anche riusciti ad ascoltare il contenuto di una delle telefonate mentre era in corso, ascoltando così la voce dell'uomo. L'autore delle telefonate, stando a quanto ricostruito finora, aveva anche dimostrato di conoscere le famiglie, fornendo nomi e particolari riguardanti la vita delle persone offese. Adesso saranno le indagini a chiarire i contorni della vicenda. Da parte loro le due donne hanno affermato di non aver avuto contrasti o altre questioni con nessuno. La polizia ha consigliato a entrambe di rivolgersi al servizio antiviolenza a telefono amico.